Il bassanese e il mondo dell'arte del territorio piangono la scomparsa di Marco Mantesso, artista di Bassano di soli 43 anni, vissuto anche a Cusinati e Borso del Grappa. Mantesso ha sempre avuto uno spirito artistico che si è concretizzato nella creazione di sculture con l'utilizzo di materiale ferroso di riciclo a cui sapeva dare nuova vita. Come diceva, ogni volta che parlava della sua passione, l'arte è far vedere a colori quello che di solito si vede in bianco e nero e i colori che lui ha lasciato in eredità nelle sue opere sono lì a ricordare la sua estrosità e il suo talento. Il funerale avrà luogo giovedì 23 novembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Cusinati.